...segnato e continuato per la legislazione. Comunico, il deputato Aurelia Bum... Nella seduta del 25 luglio 2018 sono stata assegnata a una commissione numero 655, recanti norme in materia di installazione, dispositivi per prevenire la richiesta del art. 77 del regolamento, sono state ad essere assegnate in assenza identica a quella di altre leppe proposte. Bergamini ed altri modificano l'articolo 172 del codice del 192, 2.85, concernente l'obbligo di installazione, dispositivi per prevenire la richiesta del 192 del codice della strada del decreto legislativo 30 aprile 92, 2.85 e altre disposizioni.